Dal 12 luglio al 17 agosto, nello splenido spazio della Sala del Capitano di Candelara, in mostra le opere dell'artista fanese Paolo del Signore, in cui verranno esposte le tappe principali del suo percorso artistico. Il titolo, La teatralità del quotidiano, evidenzia uno dei principali aspetti della formazione e della visione artistica di Paolo, lo studio della scenografia e della teatralità. Le sue composizioni sono una meditazione su tutto ciò che c'è di teatrale nella nostra vita. Le piazze, le strade, le stazioni animate dalla gente o semplicemente dalla luce diventano protagoniste. Paolo del Signore è un artista poliedrico che non si è limitato, nella sua lunga carriera, alla sola pittura, ma ha realizzato anche sculture, ceramiche e diversi oggetti di design. L'inaugurazione, alla presenza dell'artista e del curatore Lorenzo Fattori, avrà luogo venerdì 11 luglio alle ore 21 e 15 presso il giardino di San Francesco.